Dunque, eccomi qua. Ciao a tutti, ottima opportunità il tubo per diffondere le proprie idee e professionalità. In questo caso sono qui per parlarvi di come fare musica con il proprio pc. 1. Non è indispensabile essere musicisti. 2. Lo diventerete col tempo. 3. È molto economico. 4. Non richiede tempo, non ce ne vuole molto, per imparare, ma poi passerete tantissimo tempo a creare con amore e passione la vostra musica. A chi non piacerebbe ascoltare la propria musica nella propria auto e mentre si guida magari dire al proprio partner a fianco Cara o caro, ascolta, ti piace? L'ho fatta io e l'ho imparato online. Lezioni di musica su pc contattatemi a Artemus10, scritto al numero et alice.it Ripeto, Artemus10, scritto al numero et alice.it Ed avrete tutte le risposte ai quesiti del caso Come iniziare e come non finire mai di creare A presto